Lavorare nel settore immobiliare porta con sé la cultura del restare a galla. Che tu sia un imprenditore o un manager, sai bene che sono i risultati generati a pagare i conti. A differenza di altre categorie professionali, nella mediazione immobiliare competenza e precarietà vanno spesso a braccetto. Sono rari infatti i casi nei quali la competenza di un agente immobiliare viene riconosciuta e valorizzata economicamente, a prescindere dalla vendita. Inoltre, al fatto che il mercato ti chiede sempre più abilità, si aggiunge uno stato di cambiamento costante che comporta adattamento. Da un certo punto di vista, la tua naturale resilienza può aiutarti. A questa però devi aggiungere la capacità di unire i puntini, imparando a prevedere dove sta andando il mercato. John Chambers, ex CEO di Cisco System, dice Quando tutto diventa connesso, le regole del successo cambiano. La tua capacità di adattarsi determina se ce la farai. La rivoluzione tecnologica e l'impatto di internet e del web nella nostra vita hanno già cambiato le abitudini, introducendo le nuove e collegando sempre più persone e cose. L'abilità di reinventare non solo il proprio business, ma anche se stessi, è diventata una skill fondamentale nell'era digitale. Devi essere veloce, flessibile ed un passo avanti agli altri. Ci sono tre aspetti su cui lavorare. Aspetto numero uno. Adottare una leadership efficace. I nuovi trend della digitalizzazione hanno già cambiato il nostro mondo. Pensa come i big data, la realtà virtuale, la firma elettronica hanno influito sul tuo modo di gestire clienti e contratti, di effettuare valutazioni immobiliari, di presentare gli immobili da remoto. Pensa come le persone si sono adattate velocemente ai nuovi modi di cercare casa, di approcciare l'immobiliare. Come leader, devi considerare il modello gestionale della tua azienda, come selezioni, guidi e comunichi con le persone che lavorano con te. In quali modi i clienti sono parte continuativa del tuo processo di crescita? Quali cambiamenti devi apportare per non restare indietro rispetto alla concorrenza? Aspetto numero due. Rimani connesso con i tuoi clienti. Senza clienti non c'è business. Essi sono una risorsa rinnovabile per la tua azienda. Possono darti molte informazioni su dove sta andando il mercato, su come stanno cambiando gli stili di vita e le esigenze abitative, su nuovi problemi connessi alla compravendita, alla gestione, alla ricerca dell'immobile. Spesso l'agente immobiliare dimentica il cliente subito dopo aver venduto casa. Questo è un errore strategico, perché non lavora sul mantenimento della fiducia, che da sempre è la valuta più importante negli affari. La capacità di comunicare con i tuoi clienti, quindi, è una skill essenziale. Aspetto numero tre. Impara a osservare le start-up intorno a te. Molte delle innovazioni nel settore immobiliare non sono arrivate dai giganti del web, ma da piccole iniziative che hanno saputo adattarsi al mercato, leggendo i bisogni e realizzando soluzioni flessibili. Restare a stretto contatto con questi incubatori di novità ti permette di vedere da vicino i cambiamenti proprio mentre prendono forma. La trasformazione delle nostre vite e delle nostre aziende è guidata da centinaia di leader, partner, clienti, investitori. Sapere unire i puntini per comprendere il cambiamento non è mai stato alla portata di tutti come oggi. Non c'è un momento migliore per capire come le regole del successo sono cambiate e reinventare te stesso e il tuo business continuamente.